Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale se siete dei nuovi iscritti. Prima di iniziare questo video ci tenevo tantissimo a ringraziarvi per il supporto e l'amore che mi avete dimostrato sotto nei commenti e ne dare in merito all'ultimo video che ho pubblicato. È stato un po' difficile per me farlo pubblicare quel video, ma davvero non mi aspettavo tutto questo supporto e amore da parte vostra, quindi voglio davvero ringraziarvi di cuore e sono contenta anche che sia stato un po' di aiuto per qualcuno di voi. Non mi perdo in chiacchiere, partiamo subito con la realizzazione di questo look che mi vedete indossare. Io, anche se saremo solo io e Paolo per questo San Silvestro, non voglio rinunciare al rito che avevo ogni anno, che ho ogni anno, nel realizzare un look un po' più particolare per questa serata. Quindi invito anche voi a fare lo stesso, sia che siate in compagnia o che siate da soli, non importa. Secondo me è carino andare a realizzare un look un po' più festivo, anche se non c'è tantissimo sinceramente da festeggiare quest'anno, visto le varie cose che sono accadute, però diciamo che nel nostro piccolo facciamolo. Io vi lascio il tutorial e ci vediamo subito dopo. Grazie a tutti. 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 Potete anche indossare questo look perché no domani a Capodanno. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo lunedì in un nuovo video. Ciao!